Una delle realtà di cui si parla di più in questi ultimi giorni è la gestione Teuco. Qual è la situazione? Ripercorriamo il percorso e qual è l'aggiornamento? La situazione è molto delicata e complessa. Stiamo parlando di un'azienda storica che ha oltre 220 dipendenti, che purtroppo sono 7 anni, che vede un bilancio molto in difficoltà con perdite mediamente di 5 milioni l'anno. Quindi è chiaro a questo punto delle due una. O è un'azienda che non può farcela o l'attuale società non è in grado di rilanciare questa realtà. Noi siamo convinti della seconda, quindi è essenziale e importante che arrivi un nuovo socio in grado di portare capitali, know-how e nuove competenze. Chiaramente non è indifferente chi sarà il socio. Noi abbiamo appreso, non abbiamo elementi per giudicare, che sarà Certina Group, un gruppo tedesco, che acquisterà sta per acquistare l'80% delle quote societarie. Noi non siamo entusiasti di questo acquirente, non vogliamo avere pregiudizi, nonostante sappiamo bene, ci ricordiamo che qualche anno fa ha avuto brutte esperienze proprio nel nostro territorio. Vedremo, siamo disponibili a ragionare e capire quello che vorranno realizzare. Come viene vissuta in questi momenti l'intera vicenda? Adesso come adesso viviamo come lavoratori con molta ansia questo tipo di cambiamento e sicuramente cercheremo di fare il possibile per poter verificare bene tutto quanto l'andamento che stanno seguendo i nostri delegati della Cisle. La speranza positiva cerchiamo di vederla in fondo a quello che potrebbe essere un tunnel, come potrebbe essere una nuova rinascita per quello che è la Teuco attuale. E quindi vedremo, noi i lavoratori stiamo cercando di trasmettere un messaggio abbastanza positivo e vedremo poi con questa nuova società dove si può arrivare.